Mi raccogli miele? Ah, è pieno di... Camomilla Ancora miere? No, dai, basta, miere È pieno di camomilla, qua Ok, dai Senti le urla Mi sembra eccessivo però Medicina, ok, obiettivo aggiornato Preparla una medicina Hai ricevuto il tuo primo progetto Settato il panicetta che ti permette di creare oggetti, articoli di consumo e modificatori di armi Usando vari pezzi Qui puoi conservare tutti i pezzi che hai raccolto Leggi dei pezzi per vedere come vengono usati e dove puoi trovarli Ora muovi il cursore sul progetto e crea Aspetta un secondo Inventario Ah, non ho un cazzo di niente Ah, vabbè Seguiamo Spike Vai Spike Sì, i movimenti davanti a noi fanno un po' schifo però Per il resto Non va male La vita è molto molto bassa Un villone Un villone Possiamo chiudere Wow Ma già Però Oh Ho 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 oh 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 adesso ridiamo fiume non lo so se voglio passare davvero di qua magari c'è uno zombie no che paura eh ratti credo è tempo che abbiamo partito ma perché? sto iniziando a rispondere a te e lo sai che dicevo quando stai iniziando a rispondere a qualcuno, significa che è tempo di andare Scusa Ah ok Ora mi è tutto chiaro Sì Fanno un po' Un po' cagare i comandi Però per il resto Non va male Cosa è sta cazzata Vino Un giradischio Bella casetta però A me servirebbe un'arma però Zainetto Vattami Vattami La luminosità non è un granché Ah beh ma qua sono tutti morti Ovviamente Non si sono neanche trasformati Però perché vuol dire che Non hanno avuto Contatti Con gli altri Penso Oh Ok C'è tanto da vedere qua Delle foto C'è molta roba da vedere Molta roba da vedere Interessante Oh lo sai Vede avevo una bella casetta Una foto Bello Il bello di Dying Light è che puoi davvero andare dappertutto Così? Un bastone? Forse è vero Però sta diventando notte Vi siete resi conto? Sì Dai Vi ricordate Crane? Perchè non mi hai detto prima? Ok Noi siamo quelli Porta lettere diciamo In un mondo del genere siamo estremamente utili Utili Risorse Messaggi Non ci cos'è su cosa Non ci cos'è su cosa? Noi Noi E' Cosa 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 Questa Cosa Cosa C'è proprio qui in un'impasto? Non c'è un'impasto in un'impasto? Ma non sembrava come il tipo di ragazza che ha fatto cose per favore. Ha, non sembra come il tipo di ragazza. Cosa? Cosa di io? Tu sei un vecchio uomo che mi piace riuscire. E mi chiede a me domani sulle giovani. Hey, hey, hey. Non è un'ottima. Jane è proprio un po' poco freddo e lei sempre sta trattando problemi ma se potessi dare un po' di lei ok, ancora troppo tardi in la mattina per questo tipo di cosa occhi? volevo dire occhi bellissima stile enorme non ho mai sentito che qualcuno si trattava sui occhi perchè non sai cosa del mondo solo le donne hai ragione, forse non ti racconto troppo troppo trovare Jane stiamo impostando una casa stiamo vivendo lì nessuno ci guida e io stoppare a spiegare come un moron e ci prenderemo ci prenderemo va bene? che c'è? non 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 quindi perché si chiedi a spiegare? mi chiedi sì quindi quando vedo te di nuovo? in due anni? potre potre ti prenderemo spero che trovi il giallo e ricordi 140.200 MHz obiettivo aggiornato obiettivo aggiornato bello ok abbiamo un'arma finalmente ovviamente aggiungi l'antenna radio cazzo sono lontano menchia la cazzo è così una grana eh scusatemi eh ok credo che sott'acqua troverò nulla di interessante l'acqua è molto bella eh non vedo zombie però per ora oh pezzo di merda pezzo di merda ma qua servirebbe mi servirebbe un'arma da taglio più che altro ripariamo così attacchiamo ok orco giuda beh i primi incontri sono andati piuttosto bene cazzo no molto interessante per ora eh un inizio decisamente guarda che nome fa forse l'arrampicarsi dappertutto non è un'opzione giusto corretta 70 metri 70 metri minchia minchia ok ok io mi faccio i cazzi miei va ci facciamo gli affari nostri ok vai su ma quindi c'è qualcosa qua ci stiamo andando abbastanza bene è sempre un tutorial eh perché siamo sempre qua a fare un tutorial però non so cosa sia successo sinceramente non ne ho la minima idea non ne ho la minima idea piacerebbe capire come faccio ad andare più veloce ok ok l'arma tende a rompersi molto dead island eh signori sta diventando notte però e tu e cazzo sta diventando notte parco parkour abilità la tua capacità di parkour è salita di livello e guadagnato il tuo primo punto abilità di parkour lo puoi usare per sbloccare la tua prima abilità parkour salto alto ti permette di raggiungere il sblocimento di spalte con il team hunter RB va bene va bene sali su tutta venda bello 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 vabbè sì la broadcast station dovrebbe essere qui proprio un luogo sicuro eh come andare a malcoccio mi piace ok proviamo mi piace mi piace ma andare a malcoccio questo è la la broadcast station devo iniziare il generatore ok oh cristo non so se sono convinto eh di fare quello che stiamo per fare da cazzo è uscita sta gente guarda è quello è quello è quella merda e che cazzo è la base del combattimento quindi inizio soltanto attacchi di forza confluisco e posso partire quando un nemico sta per effettuare un attacco di forza non muoio ma muoio è tutto il camion è rotto cazzo a te madonna Ma tu che ca... Ancora tu Pazzo di merda Non ci vedo un cazzo Non ci vedo Pazzo di merda Ok, era vicino No, no Madonna, quante legnate Monete Vabbè, monete Ci possono ancora stare Benchia Ma qua siamo pazzi Siamo impazziti Spero che si attiva il primo colpo Quando devo attaccare pure la benzina Sì, 18, 17 No, è meglio È già blindata È sta cosa Venga, ragazzi Oh, quelli lì mi hanno fatto paura Ah, ultravioletti Appena sbloccato il primo rifugio Ampliando la toilette di punti di rigenerazione Tutti i rifugiati sono stati di luce UV Che garantisce sicurezza Durante la notte Inoltre i rifugiati permette di accedere al luogo di riposo Gli oggetti in più Ah, beh Super Oh, signor Ma come fai a dormire Se si stacca la corrente Non te ne accorgi Come? Chi è? It'll be all right Wait here Nothing good will come of this Have you brought 12346? We were supposed to take the patients back to the city Don't worry Non sto capendo questa parte Ma cosa sai, cosa sai Do what I tell you Cosa mi fanno? E cosa mi è successo? Sono diventato immune Cosa mi fanno? Cosa mi fanno? Oh no Che tragedia Che tragedia Terribile E' mattino E' fin qua Va tutto bene Ok Cosa mi fanno? Cosa mi fanno? Cosa mi fanno? E allora E' una storia Parallela All'1 Cosa mi fanno? Ok Ok Là c'è la grande città Evviva Pensate Pensate Ok Ok Non c'è nulla che ci interessa Vediamo Vediamo di andare Dritti spediti E' veramente carino Veramente carino Non ci sono passi da gigante rispetto all'altro Cioè rispetto all'1 Ma Non era Assolutamente previsto Ok Attenzione Ok Ok Questi punti Me li ricordo Easy Pensate se qua dentro Ci trovo un'arma Grazie Grazie Che musica di merda Però Guardate Anche gli insetti Sopra l'acqua Hanno messo Davvero Davvero Interessante Bello Vare un'arma un po' più Sopra l'acqua Tu hai quasi riuscito Il tunnel C'è un'entranza L'unica Che la G.R.E. ha lasciato Quando si scelgono la città Io venivo dall'altra Sopra Sopra Cosa è Sopra 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 Eh Lo so Uuu Io amo gli armi da taglio Su questi giochi qua Ne amo Fa schifo Perché Fa schifo Fa schifo Però Che Cazzo Sei da Vedo che mi faccio i cazzi miei Va Fermi un secondo Fermi un secondo Fa schifo Ok Ok Oh cristo È quasi morta l'arma Quasi morta l'arma Ah Eh cazzo È una grana Eh allora no Questo non è l'approccio giusto Non è per niente L'approccio giusto Ma neanche lontanamente È l'approccio giusto Eh Un contro Ok 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 Non so Non so Non so E sono molto convinto È di farlo Cioè Questo è scemo Questo è scemo Perché Perché non ho più armi Cioè Io non Non so Cosa dirvi Ehi È Cosa 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 Che posto Di merda No Forse Forse Non vi è chiaro No Forse Non vi è chiaro Insomma Quello Ci ho fottuto No 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 Dai E tu? E tu Che cazzo Sei? E tu cosa sei? Cosa sei? E' uno zombie Dopato Servirebbe una torcia Come la tua Adesso Scendi Madre di Dio Poi ci sono pazzi Aia Aia Una torcia Attenzione Però l'altro è sparito La torcia Prendi la torcia Prendi la torcia Devo muovermi io Allora facciamo così Usiamoci il tubo idraulico Momentaneo Perché è un po' più Nuovo Che? Cosa stanno cercando? È inventato Outlast Vabbè Devo andare a ammazzarli tutti Ho già capito Zitti Ah Ti ho avuto Lb per bloccare L'attacco del nemico Parlo l'ultimo momento Per subire un attacco Perfetto Ok E io vado avanti così per sempre Ah Devo farlo per forza Andiamo Ok Aspetta un secondo Pezzo di merda Ma che Loro hanno le armi tutte fighe E io dov'è? Dov'è la mia arma? La tua commissione di combattimento È serita di livello Ho guadagnato il tuo primo Punto abilità Vabbè Come altro Salti sui nemici Piazzati Bello Corro il suo nemico Spiazzate Premi RB Prevano Ok Buono Però il problema È che loro Avevano delle armi notevoli Basta che non mi rompo Di coglioni che Perché io sinceramente Volevo le loro armi Sinceramente Ah Non credo Di poterle prendere Vero? Neanche le Le armature Monete Mi interessano relativamente Mi interessano relativamente I Lasi O Cosa Cosa è? Pagano Che Pagano Ci Puoi Lare Non Hanno Cosa Pagano Questa 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 Per pesciare, chiede per una ragazza di nome The One Dicci a lui, con la sua scuola e la sua scuola Ok Cosa è quel braccialetto che hai, i tec? Sì, proteggono Se Waltz abbia le mani sulle città Tutto il mondo Sì, tutti Sì, tutti Sì, tutti Sì, tutti Sì, tutti Waltz, è Waltz qui? Sì Bello Oh, yes Ma c'è te rozzo Usa scavalca per aumentare la mobilità durante i commattimenti C'è? Esegui un calcio con salto Prima rettimento e salti Oh, aspetta un secondo Aspetta, va Buono Ah, non l'ho preso però Vi farlo Vai Ah, ok Oh C'è, bastardo, maledetto Ah, guarda le armi Aspetta Aspetta, eh Andiamo di farne uno giusto Dai Dove cazzo è Ah, il calcio è suo Minchia, gli ho rotto il culo, eh, però Guarda quanti Dai 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 Dai, pezzo di merda Pezzo di merda Pezzo di merda Il macete Il macete però Se si rompe Mi incazzo, eh Lui si sacrifica Ok Ok Ah, tonna che legnate E lui E lui Cercava noi Però lui Attenzione La mangiata La mangiata, dice Che strano Oh, signor E tu quel martello Dov'è che lo volevo io Un giorno Il suo più amico L'uomo 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 E L'uomo Mi pensavo Che l'uomo L'uomo Ma L'uomo 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 E L'uomo 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 Dio Mi Tu Stai L'uomo 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 Se non si accorge Che noi siamo lì dietro Le grate Son grosse Così No Dai Bravissimo No Io me ne vado Jesus Christ Vai Non credo che ci siano Zombie marini Vero? Zombie acquatici? Non sono propriamente Sicuro Sicuro Cioè Sono sicuro Al 45% Mamma mia Oh Belle L'ambientazione Magnifiche Magnifiche Belle Horror Va Porca Puttena Ci stiamo Trasformando No Dai Stiamo Morendo Stiamo Morendo Verso L'ignoto Caricamento Vedo una bellissima Città Però Tutto Sopra i tetti Ovviamente Perché Ovviamente a terra Non puoi stare Perché i zombie Si arrampicano Fino a un certo Punto Fatemi un po' Vedere Attenzione Aiuta Aiuta ma cosa si sono stati morsi ma nessuno ha una pistola mi spara il ha detto una bugia ah ho fatto fin di essere un nostro amico per salvarci la vita eh quella l'ho sentita anch'io eh quella legnata lì l'ho sentita anch'io si tutta in faccia potenzialmente disponibile per salute e vigore ah non posso adesso adesso che fa mi avvisa per sempre eh si ma non sono morto aspetta l'ho hakon Eh, la battaglia anche, ovviamente Grazie, che legnata, signorina Siamo vivi Siamo in questo modo Il ragazzo ha quasi ucciso noi tutti e stai chiesto con lui? Ragazzi, rilassati Sì, sono preoccupati Tu ha quasi distruttato il workshop Dobbiamo andare fuori Puoi andare? Ma io... Non capisco Dove stiamo andando? A un posto sicuro Siamo arrivati al Fisheye Cosa sta dicendo? Che quello è il baciorettino che hanno al polso? Sì, è un po' di nuovo Rilassati Tutti in controllo Ci sarà bene, eh? Tu sei schifo Adesso un minuto Sperremmo? Cosa prossima? Potremmo dovremmo fare un bacio? Mi sembra abbastanza Per me, ragazzi Potremmo la prossima Sperre la battaglia Sperre la battaglia e trovare tu sei il primo dove hai ottenuto tutti questi? non è il tuo negozio guardate bene, vivi più lungo sei un vero pellegrino o sei un vero pellegrino? sono un vero pellegrino ero... un pellegrino un'ora di mattina ma che cazzo? ma dove mi vuole far andare? allora, per prima cosa abilità assoluto di consenso senza cadere io mi faccio tutta vigore ok, mi faccio tutto vigore e sono ben contento guardate che bellezza ok 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 mi faccio mi faccio Adesso mi sembravi che è familiari con la città Ho cresito in questa città, ciò che è mai bellezza Potreiiescorti a te, ma... Adesso hai bisogno di un biomarker Non ti volerai in più senza la vita Dora dove sei? Certo in più, spero Ok, circa circa 20 km Oh, di fame! Perché tu non ti confetti? Non è facile, non mi sai lasciare Qui è diverso. Qui siamo tutti confetti Ma cosa vuol dire? Ah, quei biomarcatori non si trasformano, ma sono tutti infetti Ho sentito delle urla Non so eh Non so eh, Sochmel Voglio vedere una roba Comandi Così è troppo veloce Troppo veloce 2157 punti No, troppo veloce Andava bene com'era Ma quale cazzo è il problema? Non mi pigli per il culo No dai Ma stai zitto? No ma davvero fai Qual è il problema? Non capivo Possiamo andare Boschetti sui tetti Quando ti trovi Per villador Presenzione I tetti più rigogliosi Riconoscibili Il ragazzo era ok Luoghi come una notte In necessità di vegetazione Trovai miere Pianto usate Come dicendo aiutori In necessità Delle armi Dimenticate Come siamo le armi Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Sì, adesso vi farò vedere poi Mi piacerebbe continuare ancora un po' Però magari lo facciamo un'altra volta Alla prossima live, chica ciao, chica ciao